Ciao ragazze, sono Astrid Ericsson e sono qui per lanciarvi una sfida. C'è a chi piace fare questo? A chi piace questo? O magari questo? Voi siete come me, noi siamo le ragazze del calcio. Ho una sfida per voi, ma per lanciarvela ho bisogno di un gruppo di vere calciatrici. Ragazze, vogliamo mettere un po' alla prova le calciatrici che ci seguono. Mi serve un trick d'abilità per ognuno di voi. Voi lo mostrate, poi loro si riprenderanno mentre lo eseguono e chi lo farà meglio vincerà un premio che sarà un allenamento con voi. Ci state? Ok! Chi inizia? Per rompere il ghiaccio partiremo con un esercizio facile facile, il palleggio. Passiamo al secondo trick. Alice, tu cosa ci proponi? Cosa ne pensi del palleggio a terra? Sembra facile, invece ci vuole coordinazione e sensibilità. Livello superato con almeno 10 palleggi. Scelto che la ragazza a casa ha questo premio se lo devono proprio sudare. Martina Fabiana, che sfida lanciate? Ormai è un classico, non c'è sfida senza la Crossbar Challenge. 5 tiri a disposizione, bisogna colpirla attraverso al minimo una volta, ma siamo pronte a essere stupite. Beatrice, è l'ultimo esercizio, tocca a te. Ci vogliono piedi buoni e testa per giocare a pallone. Testa a spalla, per dare un po' più di creatività. Quattro esercizi per accettare la sfida delle campionesse dell'Inter femminile e vincere una giornata speciale con loro, B-Win e la Gazzetta dello Sport. Siete pronte? Andate su bwomen.gazzetta.it per scoprire come entrare per un giorno nella rosa nerazzurra. Voglio allenarmi anche io? Vediamo se mi ricordo qualche numero.